Tamponi rapidi, gratuiti, una volta al mese in farmacia, per studenti, famiglie e personale scolastico. Questo quanto prevede un accordo tra Regione Toscana e le organizzazioni sindacali Federfarma e CISPEL, approvato tramite una delibera nell'ultima seduta di giunta, su proposta dell'assessore alla sanità Simone Bezzini. Gli studenti maggiorenni potranno così accedere al servizio tramite un'autocertificazione e controfirmando un'apposita dichiarazione di obbligatorietà all'isolamento fiduciario in caso di esito positivo al tampone rapido antigenico. I minorenni invece potranno accedere allo screening dietro consenso del genitore, del tutore o di un affidatario. Lo screening è rivolto su base volontaria non solo agli scolari e studenti di tutte le scuole di ogni ordine grado, agli studenti universitari e dei percorsi di istruzione e formazione professionale e al personale scolastico, ma anche ai genitori, agli altri familiari e nonni. Le farmacie che effettuano i test sono tenute a registrarne l'esito sul portale regionale per consentire il necessario tracciamento dei positivi. L'accordo con le organizzazioni sindacali delle farmacie consente inoltre di offrire il test antigenico rapido a tutta la restante popolazione ad un prezzo calmerato massimo di 22 euro ed il serologico a 20, contribuendo così a favorire il più possibile lo screening tra i cittadini a tutela della loro stessa salute.